ma quando sei sul tuo palco lì, ho pensato un'altra mia, ogni volta che vengo qui ho così tanta paura questo è il primo servizio del falso e ma infatti quello che mi chiedo perché in realtà stai scrivendo un pezzettino della tua storia ok, tu sei per sapere, e questo insomma ti fa un po' paura vuoi tu tornare indietro è fatta, cioè ormai se quel palco ci sei, quando entri, quando metti il piede